Buongiorno a tutti, sono Francesco Turrini e sono l'amministratore delegato della Mavme Network. La pandemia ha accelerato quelli che erano i processi di cambiamento e le cose sono cambiate tantissimo. Sono cambiati il nostro modo di comprare le cose, di fruire dei prodotti, di fruire dei servizi, sono cambiati i modi con cui noi ci muoviamo. Tutto ciò cambia anche l'ambiente in cui noi viviamo. Cambiano le strade, cambiano le città, cambiano le nostre case, cambiano un po' tutti gli ambienti in cui noi normalmente viviamo. E' da qui che nasce un'opportunità incredibile per le aziende del settore delle costruzioni e dell'edilizia, perché cambia la struttura degli ambienti che noi frequentiamo e c'è un'opportunità pazzesca di partecipare a questo cambiamento. Le aziende del settore delle edilizie e delle costruzioni saranno tra i principali attori del cambiamento dei prossimi anni. Ma da subito viene da dire, e lo sappiamo tutti, mancano le competenze tecniche e mancano le competenze gestionali. Data la rapidissima trasformazione, sarà necessario avere in azienda persone capaci di affrontare qualsiasi tipo di progetto. Perché adesso il progetto è di un tipo e poi evolve in un altro, la soluzione tecnica è di un tipo ma tra un anno già la soluzione tecnica sarà un'altra. Per cui alla fine non è solo un problema di competenze tecniche e competenze gestionali, ma è anche un problema di attitudini, di motivazione. Le competenze, le capacità di cui devono dotarsi le persone che partecipano a queste aziende di successo sono le più varie. Sono quelle persone che noi chiamiamo le awesome people, le persone fantastiche. Vinceranno questa competizione, parteciperanno a questa trasformazione le aziende che sapranno essere costruite su persone fantastiche. Le persone fantastiche non si trovano, le persone fantastiche si costruiscono, non le si trova già pronte. Le persone fantastiche bisogna costruirle all'interno dell'azienda. MAV ha voluto organizzare questo evento proprio per aiutare le aziende del settore dell'edilizia e delle costruzioni, con soluzioni concrete, pratiche, per supportarle alla creazione delle competenze tecniche e gestionali. Competenze delle quali avranno bisogno per avere successo in questa fase di trasformazione. Siamo poi molto orgogliosi di avere il supporto anche delle principali organizzazioni di settore, con le quali potremo unire le forze per favorire lo sviluppo dell'edilizia italiana. Grazie a tutti.